Martina Guigi, ci siamo sentiti dopo la prima partita con gli Stati Uniti, c'era un pizzico di rammarico per non aver portato a casa quasi nulla, invece adesso dopo sei partite l'Italia ha quattro vittorie, perfettamente in linea per andare alle finali di Umaga. Sì, direi un bilancio molto positivo per adesso, stiamo crescendo pian piano ogni giorno e questo era l'intento che avevamo nell'affrontare questo Grand Prix, quindi sicuramente sono tutte cose che ci torneranno utili e speriamo di arrivare a Catania già con un livello di gioco superiore per poter accedere alla Final Six. La partita di oggi anche a livello personale mi sembra che sia andata bene, hai preso diversi muri e soprattutto mi sembra che migliora l'intesa con le palleggiatrici. Sì, sono cose che sulle palle veloci ci vuole più tempo, siamo tutti consapevoli, però siamo sulla strada giusta, c'è massima disponibilità da parte di tutte, quindi c'è anche un bel ambiente, devo dire che sono contenta, siamo sulla strada giusta.